Oooooooooooooooooooo essi ne può pure la quadra vi smusare subito è bella signora c'è la signora mia c'è la signora mia vi vede che il papà la va già la mogiera la sua socca i ragazzi il giorno si racconti il giorno si raccoglielno il giorno si raccoglielo il giorno si raccoglie putta la mosa avete un caro saluta Mi dice una cosa che fa la roba. Sì. Vi ricordate che tutti andavamo a dire, pur che non li si vede. Eh sì, non li vive se tutti andavano. E poi? Ma posso chiedere una cosa? Sì, sì, bella signora. Mamma, questa mano con la torcia. Prima a Storiello oggi non mi ha contato, no? Eh. E mi ha detto perché mi manca due braccia? Eh, a Storiello oggi mi ha contato bello, ti dice che era lunga. Quando avevo 20 anni, avevo 20 anni, e ci spavamo, l'accampamento, ci cominciamo. E allora mi si mangiare i mani, per non mi dirci un conto, mi si mangiare i mani, e toccavi due bumbi. E uno di questi mi spavamo e mi volava tutta la sinistra. Ma non si la sinistra, ma ma volavo. Ma volavo. Mamma, povere, tu che mi dispiace. È chiuso perché vi chiede, mamma? È chiuso... Vittà in anche fegge a piczo, perchè ti ho lasciato caldo... Povaraccio, mamma di te. Ma non si è fatto così. Ma non si è caldo, ma non si è caldo per sé poi? Eh vabbò. Eh che facciamo? Destino, Davide? Sì? Che si fa fare? Poco malissimo. Signor Stefano è tutto apposto, abbiamo risolto tutto. e ora ho risolvato di one tutti non mi ha toccato, non mi ha toccato, non mi ha toccato mamma, vedi se vuoi una cosa... di insolvere alcuna cosa? un caffè? e no, caffè, 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 caffè vieni a prendere delle cose vieni, da nervoso ma cosa si sa prendere il futuro? Dicetemi bella signora, un'altra cosa vuole sapere? Sì, questa bella coppia, sapete pure il mio predicito futuro. Eh, se cosa facciamo il predicito futuro? Eh certo, hai un ballone che serve. E allora, è una cosa più saldice. Sì, dicetemi. Mi ha assunto come ora per prima? Eeeh, Carmelo. Mi ha assunto a te. Tu, tu, tu. Eh, bravo, ciao a te. E' un baruccio. E' un baruccio. Oh, comunque tutte queste parole. Oh, come vado a fare un bagno. E' un bagno. E siamo qua un bagno? E che chi si faccia un bagno? E che non sei male, non so che uno faccia chi non bagno. Ah, e chiedeteli una prolunga almeno. E basta, ma non vuole un bagno. E che vuoi pagare i maciunelli? E' un bagno. Eh, sì, e' di qua, a contatto. E' un bagno. Perdonate, per fare un bagno. E lo prego tra poco. E lo prego su un bagno! Leva sul bagno! Prego, prego. E' un bagno custodiano. Che vuoi pagare? Ah, e lo prego? Su un bagno custodiano? Su un bagno custodiano levalo. Oh, che basta, basta. Stai una volta la gioca, poi c'è casa sua. Che famiglia di retrusche invece si è in país? Vabbè che coglione da. E adesso devemo tutti. Devemo tutti. La vita è tutte di gente. La vita è tutte di gente. a bozzeria ora noi diciamo pure a nero sentite brava gente c'è questo mondo siamo tutti le re eppure quando c'è una persona sana perfetta grazie